A Bruxelles lo spettacolo teatrale dei ragazzi che si sono risvegliati dopo il coma in tournè con Alessandro Bergonzoni, un progetto sul valore delle parole perché è importante trovare quelle giuste per raccontare la condizione di fragilità. Squate l'Europa lo spettacolo sulla vita di chi è in coma portato in scena a Bruxelles dall'associazione Gli Amici di Luca, ce ne parla Cesare Cavoni. Prendersi cura dei malati, anche i più gravi, è l'imperativo categorico fin dalla sua fondazione della Casa dei Risvegli, un'eccellenza italiana in tema di gravi cerebrolesioni. Se ne è accorta anche l'Europa, per questo Bruxelles, dopo averla scoperta, premiata e presa a modello di sanità virtuosa, oggi accoglie i ragazzi usciti dal coma nel loro spettacolo teatrale. È stato un momento molto importante anche per il futuro, abbiamo stretto dei legami, dei rapporti e credo che nasceranno delle progettualità importanti. Grande successo al teatro dell'Istituto Italiano di Cultura con la presentazione dello spettacolo Coma Reading. Con i ragazzi della Casa dei Risvegli abbiamo voluto raccontare anche che ci sono libri che vanno sfogliati, non lasciati andare al macero, vanno letti ed è importante pensarci prima di voltare pagina. Uno spettacolo per dire che chi subisce il coma o uno stato vegetativo non è uno scarto e va aiutato, è insieme a lui le famiglie, dal punto di vista psicologico ed economico. Un'esperienza locale di comunità cittadina, bolognese, che diventa regionale, nazionale e esempio in Europa, a Bruxelles. Le relazioni con le famiglie e con le persone ospitate alla Casa dei Risvegli sono il cuore della cura, del processo di cura. Le famiglie attendono fiduciose. Grazie! Salute